E' il 10 gennaio del 2013, quando l'intero comprensorio ionico etneo si risveglia nel pieno di una bufera giudiziaria. L'inchiesta a Nuova Ionia sfocia in 27 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla DIA e dalla Procura di Catania. L'indagine sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nei 14 comuni del lato Catania 1 coinvolge non solo presunti appartenenti al clan Cintorino ma anche amministratori e funzionari pubblici. Per settimane si susseguono perquisizioni negli uffici degli enti, delle società e degli indagati in tutto 43. Le accuse sono a vario titolo associazione mafiosa, truffa, aggravata ai danni di enti pubblici, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di armi e corruzione aggravata. Per la Procura Etnea il clan Cintorino, operante tra Giarra e Calatabiano, avrebbe messo le mani sulla gestione dei rifiuti grazie alla complicità di colletti bianchi compiacenti. Tutti e 14 comuni si costituiscono parti civile nel processo. Il 30 dicembre, nel corso dell'udienza preliminare, il GUP Alessandro Ricciardolo proscioglie da ogni accusa gli ex dipendenti della Ionia Ambiente Antonino Germana e Giuseppe Grasso e l'ex funzionario interregionale dell'Emeria Ambiente Gianfranco Claudio del Tufo. La società d'ambito esce pulita dalla vicenda. Anche per Giuseppe Arculia, accusato di frode, per Antonino Pennisi, imputato per associazione per delinquere di tipo mafioso, viene messa a sentenza di non luogo a procedere. Rinviati a giudizio gli altri 18 imputati. Il rito ordinario, apertosi il 30 aprile, procede davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania. L'abbreviato in primo grado si è concluso ieri con 5 assoluzioni e 12 condanne.